Lei è Pandora, dolce gattina di circa tre anni, è stata recuperata dai volontari del canile comunale di Arezzo gestito dall'EMPA sul ciglio di una strada la scorsa estate. Pandora era stata investita. Aveva un grosso trauma cranico. Il veterinario non dava molte esperienze perché era veramente ridotta male. In realtà lei ce l'ha fatta, ha superato il trauma cranico. L'unico problema è rimasta cieca da un occhio. Però ecco, lei non ha assolutamente problemi in questo. Sicuramente ha difficoltà a stare con altri gatti perché magari non vede quando sono dietro di lei. Quindi ha un po' paura anche quando si tratta del mangiare. Bisogna dargli da mangiare a lei in un posto separato dagli altri. Oggi Pandora cerca una famiglia. Cerchiamo casa lei perché è dolcissima, vuole stare solo al chiuso, è freddolosa quindi in appartamento starebbe benissimo. Anche perché qua comunque i gatti sono liberi, con le strade vicino c'è sempre un rischio. L'appello ovviamente è rivolto a chiunque volesse adottare Pandora e può venire qui al canile. Sì, può venire qui al canile. Lei ovviamente già sterilizzata, anche testata e FIV-FELV negativa e quindi non ci sono problemi.